Ciao a tutte carissime amiche e grazie di essere qui. Scopriamo insieme cosa succederà nella seconda puntata di La Rosa della Vendetta, che andrà in onda venerdì prossimo, 14 giugno. Ecco per voi le anticipazioni. Deva, dopo aver scoperto che suo padre Ibrahim è stato rapito da Gulcemal, decide di andare a cercarlo. Le sue ricerche la portano proprio alla Casa dell'Uomo, dove trova Ibrahim rinchiuso in una cella nei sotterranei. Nonostante le suppliche di suo padre di fuggire e mettersi in salvo, Deva non ha nessuna intenzione di abbandonarlo. Con grande coraggio, affronta Gulcemal. Quest'ultimo le propone un crudele patto, se desidera la liberazione di suo padre, dovrà prendere il suo posto. Senza esitare, Deva accetta l'ultimatum. Ibrahim viene liberato, mentre lei resta prigioniera nei sotterranei della grande villa di Gulcemal, contro la sua volontà. La determinazione di Ibrahim, però, non vacilla. Nonostante sia libero, si rifiuta di lasciare la villa e si stabilisce all'esterno, gridando a gran voce il nome di Deva e implorando la sua liberazione. La situazione si fa sempre più tesa. Da un lato, Ibrahim cerca disperatamente aiuto, cercando di coinvolgere chiunque possa assisterlo nel liberare sua figlia. Dall'altro, Deva, imprigionata, non perde la speranza e medita un piano di fuga. Il confronto tra Ibrahim e Gulcemal è inevitabile, e la lotta per la libertà di Deva si fa sempre più accesa. Nessuno, tuttavia, gli dà ascolto, tanto meno Gulcemal, perché ormai Deva è nelle sue mani. Passa una notte intera, e Ibrahim resta dove è, rifiutandosi di andarsene. Il mattino seguente, Gara, che per Gulcemal è quasi come una madre, si reca da Ibrahim. Quando Ibrahim la vede, però, è così sconvolto che ha un infarto. Gara e Ibrahim si conoscono benissimo, c'è un passato che li lega. Durante quella notte, un'altra tragedia colpisce. La casa di Ibrahim, dove viveva con le sue figlie Ipek ed Eva, va a fuoco. Ipek è distrutta dal dolore, e Zafer cerca di convincerla che il responsabile dell'incendio è Gulcemal. Tuttavia, la verità è un'altra, è stato proprio Zafer a causare l'incendio. Gulcemal viene a sapere dell'infarto di Ibrahim e del fatto che le sue condizioni sono gravissime. Furioso, decide di punire i due uomini che la sera prima avevano prelevato Ibrahim e lo avevano portato alla sua casa. Pare che i due lo abbiano picchiato, cosa che non avrebbero mai dovuto fare. La scena della punizione è terrificante. Gulcemal è implacabile nella sua ira e infligge una severa punizione ai due uomini. Deva, rinchiusa nei sotterranei della villa, riesce a vedere tutto da una delle finestre. La scena la lascia pietrificata, il terrore e la brutalità a cui assiste la fanno tremare. La sua determinazione a fuggire cresce, ma si rende conto che è prigioniera di un uomo spietato, disposto a tutto pur di mantenere il controllo. Nel frattempo, Ibrahim lotta tra la vita e la morte, mentre Ipek e Deva sono distrutte dal dolore per la perdita della loro casa e per le condizioni critiche del padre. La tensione è alle stelle, e il destino di Deva sembra sempre più incerto. Riuscirà a trovare un modo per liberarsi? E Ibrahim sopravviverà all'infarto? Poco dopo, Gulcemal esce per andare a comprare dei vestiti per Deva, che indossa ancora il suo abito da sposa. Prima di partire, chiede a Gara di fare un bagno alla giovane. Nel negozio in cui si reca, lo sentiamo descrivere Deva con parole dolcissime, sognanti e piene d'amore, rivelando quanto si sia innamorato di lei. Nel frattempo, Deva viene condotta da Gara nel bagno. Tuttavia, una volta dentro, Deva si chiude a chiave e urla che non ha più intenzione di uscire. La temperatura nella stanza è molto alta, Deva, ovviamente, non ha nessuna intenzione di fare un bagno, ma si toglie l'abito da sposa e indossa solo un asciugamano per sopportare meglio il caldo. Gara le chiede di aprire la porta, ma Deva rifiuta. Uno degli uomini che lavorano li prova a sfondare la porta, ma senza successo. La tensione cresce, e Gara non sa come gestire la situazione. Intanto, Gulcemal torna a casa con i vestiti nuovi per Deva. Vedendo la situazione, si precipita verso il bagno e, con un'enorme forza, sfonda la porta. Gulcemal raggiunge Deva, il suo sguardo è pieno di preoccupazione e amore. Deva, spaventata e stanca, si ritrova di fronte a un uomo che, nonostante la sua crudeltà, sembra realmente tenerci a lei. Gulcemal cerca di calmarla, le parla con dolcezza, ma Deva è ancora terrorizzata e diffidente. La scena che segue è carica di tensione e emozione. Gulcemal, nonostante tutto, cerca di mostrare a Deva che i suoi sentimenti sono sinceri, ma la giovane è confusa e spaventata. La loro interazione è un mix di paura, speranza e una strana forma di connessione che si sta lentamente sviluppando tra i due. Gara, osservando tutto da una distanza prudente, inizia a capire che i sentimenti di Gulcemal per Deva sono più profondi di quanto pensasse. Questo nuovo sviluppo potrebbe cambiare le dinamiche all'interno della villa e forse, un giorno, portare a una svolta nella prigionia di Deva. Il futuro rimane incerto e con Ibrahim ancora in condizioni critiche, le fiamme della vendetta, dell'amore e della speranza continuano a bruciare intensamente. Tra i due si scatena una nuova discussione, intensa e piena di tensione. Deva si sente sopraffatta e perde i sensi. Gulcemal, preoccupato, la solleva e la porta via. Più tardi, vediamo Deva addormentata in un letto nei sotterranei, mentre Gulcemal la veglia con attenzione. L'uomo si avvicina, la scruta, le tocca il viso con delicatezza e le prende un braccio. Sul polso nota una macchia che lo colpisce profondamente, facendogli fare una scoperta importantissima. Lui conosceva già Deva. In un flashback, vediamo un giovane Gulcemal che, insieme alla sua sorellina Gulendam, si reca a casa di Zaffer per una festa. Tra gli invitati c'è anche il piccolo Armagan sulla sedia a rotelle e altri bambini. Una bimba, che sta mangiando, lo guarda mortificata. Gulcemal, affamato e imbarazzato, esce dal giardino della villa, ma la bimba lo segue e gli porta del cibo, comprendendo il suo bisogno. Gulcemal nota che la bambina ha una macchia sul polso e le promette che non la dimenticherà mai. Ora, ricordando questo momento, Gulcemal capisce che quella bambina è diventata la donna che ha davanti a sé, Deva. Questa rivelazione è illuminante per Gulcemal, che decide di trattare Deva con maggiore rispetto e considerazione. Quando Deva si sveglia, ancora debole, Gulcemal la porta con gentilezza nella sala da pranzo della sua casa, invitandola a fare colazione. Tuttavia, Deva, piena di rabbia e frustrazione, rifiuta di mangiare e getta il cibo a terra, facendo infuriare nuovamente Gulcemal. La reazione di Deva riaccende la furia di Gulcemal, che, sentendosi tradito nei suoi tentativi di essere gentile, decide di rinchiuderla nuovamente nei sotterranei. Tuttavia, la sua rabbia è mista a una crescente consapevolezza dei suoi sentimenti per lei e del loro legame passato. Nel frattempo, la situazione fuori dalla villa continua a deteriorarsi. Ibrahim, ancora gravemente malato, lotta per la vita, mentre Ipek e Deva cercano disperatamente un modo per salvare la loro famiglia. Zafer, consapevole del proprio crimine, cerca di mantenere il segreto sull'incendio, mentre Gara osserva con preoccupazione i cambiamenti in Gulcemal. Nel frattempo, vediamo Mert che cerca disperatamente di contattare Deva tramite i social, ma non riceve nessuna risposta. La preoccupazione e il senso di impotenza lo tormentano. Parallelamente, Mert è stato costretto a sposare Gulendam, la sorella di Gulcemal. Durante una conversazione molto particolare, emergono verità profonde e sconvolgenti. Gulendam confida a Mert di essere consapevole che il loro matrimonio non è basato sull'amore. Sa bene che lui l'ha sposata solo perché è incinta. Con un tono di rassegnazione, gli rivela che anche lei non lo ama. Il loro matrimonio esiste solo per il bene del bambino che porta in grembo. Non vuole che suo figlio si senta abbandonato, come è accaduto a lei con sua madre. A questo punto, Mert, toccato dalla sincerità di Gulendam, le confessa di aver vissuto un'infanzia simile. Rivela di essere stato un figlio abbandonato, cresciuto in un orfanotrofio. La rivelazione crea un legame inaspettato tra i due. Nonostante le circostanze, scoprono di avere qualcosa in comune, il dolore dell'abbandono e il desiderio di proteggere il loro bambino da un destino simile. Questo momento di vulnerabilità reciproca segna un punto di svolta nel loro rapporto. Iniziano a vedere l'un l'altro sotto una nuova luce, comprendendo che, sebbene il loro matrimonio non sia nato dall'amore, possono trovare conforto e comprensione nella loro condivisione di esperienze dolorose. La conversazione apre la porta a una nuova dinamica tra loro, basata sulla comprensione e sul sostegno reciproco. Mentre Gulendam e Mert cercano di navigare le complessità del loro matrimonio forzato, la situazione di Deva resta critica. Ibrahim continua a lottare per la vita, e Ipek e Deva cercano disperatamente di trovare una soluzione per salvare la loro famiglia. Zafer, consapevole del proprio crimine, cerca di mantenere il segreto sull'incendio, mentre Gara osserva con preoccupazione i cambiamenti in Gulcemal. Ipek è in ansia per Deva, ora che sa che è prigioniera di Gulcemal, ma non sa come aiutarla e tirarla fuori di lì. Inoltre, Zafer non si è mostrata così disponibile come avrebbe voluto. Armagan, però, desidera aiutare Ipek, con coraggio, si reca proprio a casa di Gulcemal nella speranza di vedere Deva e portarla via. Quando Armagan e Gulcemal si trovano faccia a faccia, l'aria è carica di tensione. Armagan non lo sa, ma Gulcemal sì, sono fratelli. Gulcemal lancia una sfida ad Armagan, proponendo una partita a scacchi. Se Armagan vince, potrà vedere Deva. Gulcemal, però, mente e afferma che Deva non è sua prigioniera, ma un ospite, e che non è costretta a restare lì. Armagan accetta la sfida, ma purtroppo perde la partita e deve andarsene a mani vuote. Intanto, Zafer, avvisata da Ipek della destinazione di Armagan, corre a casa di Gulcemal e ha un confronto infuocato con il figlio. Gulcemal cerca di mantenere il controllo, ma Zafer, con la sua cattiveria, riesce a farlo piangere e lo costringe a permetterle di vedere Deva. Quando Deva incontra Zafer, scopre che suo padre sta malissimo e potrebbe anche morire. La notizia la sconvolge, aumentando la sua angoscia e la determinazione a fuggire. Gulcemal, vedendo Deva soffrire, è combattuto tra i suoi sentimenti per lei e l'odio per la madre. Mentre Gulcemal lotta con i suoi sentimenti, Ipek, fuori dalla villa, cerca disperatamente un modo per salvare Deva. La situazione si fa sempre più critica, e i segreti del passato continuano a emergere, complicando ulteriormente le relazioni tra i personaggi. Zafer promette a Deva che l'aiuterà e, prima di andarsene, le passa un sacchetto di velluto. Dentro il sacchetto c'è una pistola. Deva, sorpresa e confusa, nasconde rapidamente l'arma. Poco dopo, Gulcemal prende una decisione sorprendente, va da Deva e la trova in uno stato di disperazione. Inaspettatamente, Deva inizia a spogliarsi, offrendosi a lui in cambio della sua liberazione. Gulcemal, tuttavia, rifiuta il gesto. Con fermezza e delicatezza, le chiude la camicetta e le chiede di seguirlo. La conduce nella sua casa e, entrando in una camera da letto, le dice che d'ora in avanti quella sarà la sua stanza. Non sarà più una prigioniera, ma un ospite, e la porta della stanza non verrà mai chiusa a chiave. Tuttavia, le impone una condizione, non potrà uscire dalla casa. Deva lo implora insistentemente di permetterle di andare in ospedale per vedere suo padre morente, ma Gulcemal risponde con un categorico no. Appena rimasta sola, Deva, sopraffatta dalla disperazione e dalla rabbia, decide di prendere in mano la situazione. Dà fuoco alla sua camera, creando un diversivo. Blocca la porta e, approfittando del caos, esce da una portafinestra, riuscendo finalmente a scappare. La fuga di Deva scatena una serie di eventi. Gulcemal, furioso e preoccupato, mobilità i suoi uomini per trovarla. Intanto, Deva corre attraverso il giardino, determinata a raggiungere l'ospedale e vedere suo padre un'ultima volta. La tensione è alle stelle mentre i minuti passano e Gulcemal si rende conto che i suoi sentimenti per Deva sono più profondi di quanto immaginasse. Nel frattempo, Zafer, consapevole del caos che si sta creando, osserva con un sorriso soddisfatto, convinta che la sua interferenza stia finalmente portando a compimento il suo piano. Ma la determinazione di Deva e il tormento di Gulcemal promettono ulteriori colpi di scena. La fuga di Deva non è affatto semplice. Durante la sua disperata corsa, si ferisce gravemente a un piede. Nonostante il dolore e zoppicando, riesce a uscire dalla villa di Gulcemal e a nascondersi nel bosco. Nel frattempo, Gulcemal scopre la fuga di Deva e, furioso, si mette alla sua ricerca insieme ai suoi uomini. La caccia attraverso il bosco è intensa e piena di difficoltà. Gulcemal, determinato, alla fine riesce a raggiungere Deva. In un atto di disperazione e autodifesa, Deva tira fuori la pistola che le ha dato Zafer e spara a Gulcemal al petto. L'uomo crolla a terra, ferito gravemente, mentre Deva, zoppicante e mal ridotta, cerca di continuare la sua fuga. Tuttavia, Deva è ormai esausta, le forze l'abbandonano e, ferita, collassa sul fogliame del bosco. Incapace di rialzarsi, giace lì, pensando di essere ormai alla fine. Sorprendentemente, è proprio Gulcemal, nonostante la grave ferita, a raccogliere le sue ultime forze e a raggiungerla. Con uno sforzo immenso, la solleva e la porta nuovamente via. Il ritorno alla villa è carico di tensione. Gulcemal, sanguinante e in preda al dolore, è mosso da un misto di rabbia e protezione verso Deva. Una volta tornati, Deva viene curata sotto l'occhio vigile di Gulcemal, che, nonostante tutto, si prende cura di lei con una tenerezza inaspettata. La situazione si complica ulteriormente. Gulcemal, debole ma determinato, ordina ai suoi uomini di cercare un medico per curare sia lui che Deva. Mentre i due giacciono fianco a fianco, emergono momenti di vulnerabilità e comprensione reciproca. Deva, combattuta tra l'odio per il suo carceriere e la crescente consapevolezza dei sentimenti contrastanti che prova, inizia a vedere un lato di Gulcemal che non aveva mai notato prima. Nel frattempo, Ipek, preoccupata per la sorte della sorella, continua a cercare alleati per salvare Deva. La notizia del ferimento di Gulcemal si diffonde rapidamente, complicando ulteriormente la situazione. Zafer, che aveva dato la pistola a Deva, osserva con crescente preoccupazione gli sviluppi, consapevole che le sue azioni hanno innescato una catena di eventi incontrollabili. La prossima puntata di La Rosa della Vendetta promette ulteriori colpi di scena e rivelazioni. Non perdetevi le prossime emozionanti svolte di questa avvincente storia, dove amore, vendetta e speranza si intrecciano in un crescendo di tensione e emozioni. Restate con noi e avrete tutte le notizie in anteprima. Grazie, a presto!